Eccoci qui, convegno Unicobas, abbiamo il professor Roberto Maragliano, esperto di didattica, già docente universitario, si è appena svolto un convegno sul disastro educativo italiano organizzato dall'Unicobas, il professore ci può fare una sintesi del suo intervento? Allora, una sintesi è difficile, però si può dire una cosa, in discussione c'è una situazione di crisi della scuola, non a caso il libro da cui siamo partiti con i nostri ragionamenti si chiama La scuola rapita, ecco la mia idea è che la scuola sia stata rapita da che cosa? Non da cattivi, non solo, ecco, da cattivi gestori o da cattivi operatori, da cattivi politici, è stata rapita dalla realtà, cioè non si è resa conto, insomma, che la, ed è lì la sua debolezza, non si è resa conto che la realtà è cambiata, il mondo è cambiato e lei non può essere più quella di prima. Non ha saputo trasformarsi adeguatamente e soprattutto, questa è la cosa più grave dal mio punto di vista, sembra non avere una bussola per trasformarsi, perché è sempre troppo chiusa in se stessa, troppo consapevole di un passato e poco consapevole di un presente e di un futuro. Questo è il problema. Cosa si può fare? Aprire la testa, aprire la capacità di interpretare il mondo nella sua complessità, nella sua spiacevolezza, ma anche nella sua piacevolezza. Guardare la realtà non è più il mondo di prima, è un mondo diverso. Ci piaccia o non ci piaccia? È un mondo in cui non ci possono più essere gli schemi, le categorie, le discipline, le sicurezze, i principi, i dogmi. Professore, scusate, interrompo. Lei ha parlato anche di orario. Non ci può essere più un orario prestabilito? Quando dicevo discipline intendevo il fatto di avere degli orari prestabiliti, perché in questo momento fai la disciplina X e dopo fai la disciplina Y. Secondo me questo è un modo per andare contro, ma negativamente, ad una mentalità che è oggi presente nel mondo, che è la mentalità del collegare, dell'integrare, del vivere, del partecipare. Quindi all'atto pratico c'è bisogno di una maxiriforma? Della testa, lo diceva il filosofo o sociologo Morin, tra l'altro già difficile definirlo Morin, è sociologo, filosofo, cinematografato, è un tuttologo che ha appunto la teoria della complessità, quindi è un tutto che è un tutto collegato, che è infatti la rete, la mentalità di rete è questo. Poi la rete è una cosa seria, i padroni della rete sono un altro discorso, ma se ci sono i padroni della rete è perché noi non siamo stati capaci di impedire che diventassero padroni. Professore, è più importante e più complesso insegnare o apprendere? Esiste solo l'apprendimento, l'insegnamento è un qualche cosa che deve essere messo a servizio dell'apprendimento, che vuol dire far saltare l'idea di scuola che è ancora presente, ma che è l'idea che oggi è entrata in crisi. Cioè la società sta fortemente investendo su un apprendimento, sull'apprendimento, a volte anche in modo su contenuti non accettabili, il problema è che quella società sa investire bene sull'apprendimento, la scuola invece è così centrata sulla logica dell'insegnamento che non riesce a intercettare l'apprendimento, l'apprendimento vero, ecco quindi la scuola dovrebbe mondanizzarsi per poter essere un luogo di apprendimento e non soltanto una cattedrale dell'insegnamento. Quindi per essere pratici, professore, lei ha detto che bisogna cambiare la mentalità, bisogna cambiare la testa, ma quindi la testa iniziale già dal Ministero dell'Istruzione si riferisce o alla testa degli insegnanti? Io tendo la testa di tutti, la testa di chi sta dentro la scuola o chi della scuola si serve, quindi i ragazzi, i genitori e gli insegnanti, lavorare a costituire delle zone, franche già ce ne sono a livello di scuola primaria, ma non ce ne sono per nulla a livello di scuola secondaria, delle zone in cui l'amministrazione dell'apprendimento sia fatta al di fuori delle logiche che oggi presiedono, scolasticamente parlando, all'amministrazione dell'istituzione, cioè senza valutazione, senza divisione di discipline, senza orari, ecco, creare, senza, come dire, gerarchie di conoscenza, ecco, creare delle situazioni, diciamo, un po' di anarchia pedagogica, dentro le quali sia possibile liberare l'apprendimento, ecco, almeno sperimentare questo, e sperimentarlo in collegamento con la parte positiva che è presente dentro la società e con tutte le tecnologie, con tutte le forme di conoscenza presenti nella società. Però dovrebbe intervenire anche il legislatore, bisognerebbe anche eliminare gli esami di Stato? Ma gli esami di Stato sono già stati eliminati, perché di fatto un esame che non serve a niente è soltanto una cerimonia. Allora, accogliamo che sia una cerimonia, facciamo tanti bei ragionamenti su questa cerimonia, vediamo come allestirla, ma di fatto quello non è un esame. Può rimanere, ma... Io sono contrario all'idea di qualche cosa che sia di Stato, ecco, perché secondo me il futuro della scuola è far cadere proprio il valore legale dei titoli di studio, a tutti i livelli, a cominciare dall'università. Un'ultima battuta, il Covid, quanto ha cambiato l'apprendimento, quanto ha cambiato anche i modi di insegnare? Ha cambiato i modi di apprendere perché soprattutto ha lasciato spazio ai ragazzi, alla loro autonomia. Di solito non si dice, o si dimentica, il fatto che anche dalle misure che sono state fatte risulta che nel periodo del Covid i ragazzi hanno imparato qualche cosa, cioè hanno imparato l'ichese. Quindi vuol dire che comunque è stata un'occasione per imparare, cioè non andare a scuola, il che è un paradosso. Quindi io credo che occorrerà andare in questa direzione, cioè che la scuola accetti il mondo, si confonda con il mondo, incominci intanto a costituire al suo interno delle zone franche, non si riservi, come dire, non adotti più il libro come strumento per combattere il mondo. Grazie professor Maragliano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.